Cosa succede quando il mondo scintillante dei social media si scontra frontalmente con la spietata realtà del giornalismo d'inchiesta? Oggi ti portiamo nel cuore di una controversia che sta infiammando l'Italia. Chiara Ferragni contro l'Espresso, una battaglia legale e mediatica senza precedenti. Rimani con noi per scoprire come una copertina possa scatenare una tempesta capace di mettere a nudo le fragilità dell'impero di un'icona digitale e testare i limiti dell'etica editoriale. Prima di iniziare iscriviti al nostro canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere tutti i nostri prossimi contenuti. In un nuovo episodio scottante del panorama del gossip italiano, la regina dell'influencer marketing Chiara Ferragni si trova al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. Proprio quando sembrava che le acque si fossero calmate, con Ferragni che riemerge serena dai social post intervista con Fabio Fazio, ecco che l'Espresso lancia una bomba con la sua ultima copertina. Immaginate, Chiara Ferragni, l'icona di stile e imprenditrice digitale, trasformata nel sinistro Joker, un'immagine che ha subito acceso le polveri di un dibattito acceso. Il settimanale, famoso per non lesinare colpi, preannuncia un'inchiesta che promette scottanti rivelazioni sulla galassia societaria dell'influencer. Un intreccio complesso di società, una carovana di quote azionarie, tra manager indagati e dipendenti poco remunerati. In breve, descrive l'impero di Ferragni come un regno dove la trasparenza sembra un ospite rara. La reazione di Ferragni non si è fatta attendere. Un fermo richiamo ai propri legali per valutare ogni possibile azione legale, compresi significativi risarcimento per danni morali e materiali, contro la casa editrice dell'Espresso. Ma non è tutto. In questo giorno dedicato alla celebrazione della donna, l'uso dell'immagine di Ferragni come Joker viene etichettato dai suoi avvocati come «gravemente diffamatorio e lesivo», accendendo ulteriori dibattiti sulla scelta editoriale del settimanale. Mentre la copertina divide l'opinione pubblica, con alcuni che la difendono e altri che la condannano, emerge un cavaliere inaspettato. Fedez, il marito rapper, attualmente in un momento di distacco per crisi coniugale, scende in campo con un post incendiario su Instagram. Ironizza sull'editoria chiedendo con un pizzico di sarcasmo «A quando un'inchiesta sul vostro proprietario petroliere?» Non risparmia critiche, accompagnando il tutto con una foto che ritrae Donato Ammaturo, presidente del gruppo Ludoil Energy, con il viso truccato da clown, in una chiara replica alla copertina su sua moglie. Nel frattempo, la magistratura milanese continua a indagare su operazioni commerciali di Ferragni, sospettate di pubblicità ingannevole, analizzando anche il bilanciamento «Torah follower reali e fake». Una vicenda intricata che promette ancora molti colpi di scena. Tu cosa ne pensi di questa vicenda? La copertina è stata un colpo basso o un legittimo esercizio di giornalismo d'inchiesta? E la reazione di Fedez, un gesto di supporto genuino o una mossa calcolata per l'immagine pubblica? Lascia il tuo commento qui sotto e unisciti alla discussione. La tua opinione è fondamentale per noi. Dibatti, condividi, esprimi il tuo punto di vista. E mi raccomando, non dimenticare di lasciare il tuo like sotto al video! Te ne siamo grati! Questo caso apre interrogativi profondi sul confine tra libertà di stampa e rispetto della dignità personale, in un'epoca in cui l'immagine pubblica può essere plasmata o distrutta con un semplice click. Resta con noi per ulteriori sviluppi su questa storia, che dimostra ancora una volta, come nel mondo dello spettacolo e dei social, la linea tra realtà e finzione sia sempre più sfumata. Grazie per essere stato con noi! Ti aspettiamo presto!